ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi vi porto capitalism lab un gioco che attualmente è scaricabile acquistabile soltanto dal sito ufficiale al suo launcher personale a cui accedete con la vostra password la vostra mail che avete usato per acquistare il gioco il gioco me l'ha consigliato uno di voi sotto il video di seo mi ha detto una versione light di capitalism lab sono in cui mi sono incuriosito insomma ho provato a anche questo titolo e devo dire che è veramente immenso totalmente complesso ma se vi piacciono state cercando magari un gioco con una buona gestione ottima dire gestione economica questo potrebbe fare al caso vostro la grafica ok è quella di primi anni 2000 ma è volutamente così e il gioco vanta un'ottima serie di tutorial che vi insegneranno tutte le basi io adesso voglio iniziare una partita in custom in modo da farvi vedere quello che ho appreso non faremo nulla di particolare però si potranno scegliere il numero di città il capitale iniziale gli eventi diciamo randomici l'inizio se il 1990 o il 2000 il tipo di retail store type e tante altre cose tipo anche la il numero di competitor quindi i nostri avversari quali dlc attivare perché ce ne sono veramente tantissimi ovviamente questo è un video per darvi un po l'input per capire se è il gioco che state cercando si può scegliere un obiettivo ma noi saltiamo e ce lo giochiamo così allora questo è il mondo di gioco non è propriamente il mondo di gioco perché se clicchiamo qua vediamo siamo a pittsburgh se clicchiamo sulla mappa vediamo le altre città ne ho messe tre in questa partita abbiamo Helsinki e Roma se noi selezioniamo Roma adesso siamo a Roma ogni dovete tenere in considerazione diversi fattori ogni paese ha la sua economia i suoi prodotti le sue risorse in questo caso qua vedete del silver e fatto questo dovete iniziare a diciamo cercare di capire quello che volete fare della vostra vita della vostra economia volete essere dei non so dei giganti produttori di alta moda lo potete fare veramente di cose da dire ce ne sarebbero tante pensate che potete costruire potete andare dal negozio al dettaglio il supermercato l'ipermercato il centro commerciale immenso farvi le fabbriche il centro di ricerca e sviluppo le farm quindi i campi i magazzini potete addirittura acquistare o creare voi stessi delle agenzie di stampa radio televisione e così avete la pubblicità gratis poi potete costruire anche case appartamenti edifici commerciali edifici civili e diciamo delle campi da calcio insomma roba del genere calcolate che quando voi costruite qualcosa non è che potete semplicemente poi distruggerlo ma quell'edificio lo dovete mettere in vendita quindi se costruite in modo sbagliato lo dovete mettere in vendita ora non ho ancora preso diciamo benissimo quello che sono le basi del gioco perché andrebbero rigiocati i tutorial sono otto tutorial ne ho fatti sei ma non potevo resistere dal dal mandarvi subito un video e vi faccio vedere allora quasi può acquistare la terra io non ho sbloccato tutto nel tutorial in realtà comunque vi faccio vedere possiamo costruire un non so retail store a qua me ne fa fare solo uno da impostazioni di gioco ok va bene e vedete che qui ci dà il costo del terreno e il costo dell'edificio in questo caso lo mettiamo qui ad esempio e poi si apre questa finestra adesso io ho scelto questo simbolino come come attività quella sembra quasi il simbolino del commodore e qua ci sono questi quadrati che ci consentono di costruire un singolo oppure cliccando qui una singola catena cliccando qua possiamo scegliere di se abbiamo altre industrie che lo fanno se no possiamo scegliere i seaport e quindi praticamente importare qualsiasi cosa e venderla semplicemente ma in questo caso non lo so vedete che poi ci dà anche anche la domanda che c'è di questo di questi prodotti che si possono importare comunque quello che invece si può fare è la factory la factory piccola possiamo mettere una fabbrichetta qua in fondo e andare a scegliere quali merci produrre ogni merce a diciamo beh un indice di necessità cioè ci fa capire che in effetti se si dovesse andare in periodi periodi di crisi comunque di una giacca serve mentre invece una fotocamera una videocamera un hi fi un po di più però la fotocamera videocamera no e così via cioè servono meno quindi sono prodotti che venderanno meno mentre invece il cibo piuttosto che i prodotti per la cura del corpo sono sempre con una richiesta molto alta ogni prodotto viene diciamo prodotto con dei dei degli ingredienti insomma in questo caso noi facciamo i jeans ad esempio e ci viene chiesto i colori insomma le tinture e il tessile questi li possiamo acquistare o produrre noi stessi in questo caso selezionando la factory in questo modo viene settata in questo modo viene il reparto acquisti acquista i dai staff reparto acquisti acquista i tessili e vengono prodotti jeans e questo per più volte insomma dai staff dai staff textile e vengono prodotti diversi jeans vedete che inizia la produzione questa è la nostra fabbrica con il suo profitto che non c'è nel senso che al momento sì ci sono le vendite e vende semplicemente jeans ma noi vogliamo che il nostro negozio diventi uno store ripeto ho avviato la partita con una modalità sbagliata perché i negozi i department store se avessi scelto meni invece che solo uno ce ne sarebbero stati tanti dal negozio al dettaglio calcolate che un gioco che tiene conto anche del fatto se voi fate un negozietto che vende computer vicino un grande supermercato o li svendete o andate in perdita perché la gente non li compra da voi giustamente decidiamo di importare da gameplay che la mia azienda le altre sono i rider united circle around petal sono tutti i nostri competitor i nostri avversari clicco su questo e vedete che inizia e lo vendono è possibile anche creare della pubblicità con dell'advertising e collegare tutto insieme e quindi questo viene pubblicizzato ma non è finita qui perché non è diciamo finita qui perché potete anche andare a scegliere con control di le aspettate che ve lo trovo fare le pubblicità insomma brand vedete possiamo decidere di pubblicizzare diversi tipi di brand questa la pubblicità potete fare un singolo prodotto piuttosto che una range il range sono quelle categorie che vi ho fatto vedere prima dove c'erano gli apparel che sono tutti gli indumenti e quindi vi pubblicizzerà in automatico tutti gli indumenti che producete e ogni unique brand in pratica solo i jeans quindi se fate delle giacche non ve le pubblicizza e qua invece corporate brand tutto quello che è a nome di gameplay quindi tutto quello che facciamo in questo caso lo stiamo pubblicizzando poi ci sono tantissime cose la possibilità di chiedere dei prestiti e questo è una questa è una delle cose più interessanti del gioco nel senso che noi abbiamo le nostre azioni che sono in vendita e siamo presenti sul mercato come indi come noi privati proprietari della gameplay e noi in qualità di privati possiamo andare ad acquisire quote di altre aziende così come la nostra azienda vedete che se io clicco sulla sulla mia io vedo quello che possiedo di altre aziende cioè niente se io come indi comprassi non so vedete queste qui sono le quattro di mercato pubblica io posso quelle che anche noi stiamo vendendo i 20 26 per cento che sono liberamente comprabili noi la possediamo al 50 per cento il 24 sono in vendita e gli altri minime percentuali fanno parte appartengono a questa gente qui così come se io cliccassi sugli altri i competitor vediamo che cosa di a chi fosse di chi sono in possesso le le sue azioni quindi noi come azienda possiamo noi come indi possiamo andare ad acquistare delle quote di ride di queste quote qui posso fare buy e compriamo uno stock con un milione dello zero 35 per cento quindi in questo caso noi possediamo uno zero 35 per cento di questa azienda qui e poi pian piano possiamo creare una holding in sintesi andando ad acquistarne più del 50 per cento diventano praticamente nostre e quindi c'è tutto il discorso del mercato azionario oltre a quello che abbiamo già visto perché le nostre azioni possono aumentare diminuire possiamo venderle possiamo comprare gli altri possiamo andare malissimo quindi venderle e poi oppure acquistare quando altre ditte magari subiscono più di noi la caduta dell'economia la crisi dell'economia intanto possiamo andare a vedere che il nostro negozio sta andando abbastanza bene se clicchiamo qui possiamo dare a vedere il fatturato al momento il profitto è di 71 mila dollari in aumento quindi non sta guadagnando tantissimo però sta producendo ma le variabili sono veramente infinite perché c'è anche la guida per il farming la guida al manager le persone i prodotti nel dettaglio in pratica ci viene anche specificato quanto un prodotto esce di qualità perché i parametri per ogni prodotto sono tre sono qualità brand e price e per alcuni prodotti sono più importanti che soli per dei jeans il tutorial spiegava che la gente guarda più il brand su altre cose la gente guarda il prezzo su altre invece la qualità quindi questo è importante un'altra cosa importante vedete queste sono le categorie che vi dicevo mentre invece se noi guardiamo nelle nelle fabbriche ogni prodotto viene un prodotto fabbricato con una qualità nel senso che il nostro prodotto tiene conto generalmente della qualità dei materiali attualmente produciamo prodotti di qualità 47 ma di brand zero quindi abbiamo bisogno di pubblicizzare tanto quel band va beh sì qua vediamo i clienti che comprano da noi e praticamente ogni prodotto possiamo cambiare anche il prezzo la qualità del prodotto è determinata generalmente dai macchinari e dalla qualità del materiale ma non è così per tutti nel senso che se io adesso andassi qui questo visto in alta factory vediamo se riesco a farvelo vedere posso fabbricare i jeans può essere venduto vedete che i negozi sono tanti general store department store discount store cioè adesso io ne ho solo uno per una questione di di impostazioni di gioco noi abbiamo lo share sui jeans del 3,86 per cento ancora abbastanza bassino possiamo vedere che tutte le altre cose che si possono fare in questo caso del maglione e così via no volevo vedere un'altra cosa ma non ok cliccando sulla lana vedete che con la lana noi possiamo fare le calze il maglione insomma ci dà un sacco di cose mentre invece vediamo la nostra fabbricchetta questo qui è no si può in realtà pianificare autolink e manufactor guide che quello che ci dice qui e quindi praticamente e adesso non riesco a farvi vedere il punto in cui mi spiega quel discorso lì praticamente la qualità che esce è per ogni prodotto si può vedere un qual grafico di come stanno andando le vendite e c'è un modo di vedere praticamente le percentuali con cui effettive di come vengono realizzati se noi andiamo a prendere un prodotto che ad esempio a 3 magari la qualità di questo telefono è determinata dal 20 20 e 10 e il resto del 50 per cento della qualità è determinato dalla qualità dei macchinari e quindi dobbiamo comprare bene comprare dei materiali in primis e così via si poi qua c'è la domanda l'offerta tutto quello che che stiamo facendo e qua potete mettere in vendita la vostra fabbrica ad esempio io questa qui tecnicamente potrei metterla in vendita così come il simbolo del dollaro lo trovate del dollaro del sale vendono anche qui questa vendono una radio station ma per acquistarla ci vogliono 461 milioni e non li ho al momento purtroppo vendono le televisioni possono vendere altre aziende che non sono messe non sono messe bene è molto meglio di un monopoli e qui stiamo parlando solo di una città perché se io shift assi qua in alto al siamo a helsinki qua vedete che intanto ci avvisano che la banca ha aumentato l'interesse sui prestiti dal 725 al 750 helsinki pittsburg dove eravamo prima e poi torniamo a roma possiamo aggiungere fino a 8 10 città adesso non mi ricordo si può aumentare la velocità di gioco e qua si può andare a vedere tutto quello che è la guida il gioco ci spiega tutto è tutto completamente in inglese quindi su quello bisogna farci un po l'abitudine e qua la lista dei milionari come persone singole e noi local billionaire non ne abbiamo di miliardi avevamo solo milioni ma tra l'altro ne abbiamo abbiamo spesi ne avevamo un milione se noi tornassimo sul mercato azionario noi come indi che possediamo queste quote posso andare a venderle tutte possiedo vediamo un attimo possiedo queste quote posso andare a venderle però vedete che questa azione è scesa aveva investito praticamente quasi noi in realtà si ha di brutto è scesa tantissimo e quindi niente vedete che è scesa lo comprate in un periodo cioè volendo potete stare tranquillamente qui e fare solo questo per fare soldi però vedete le categorie sono consumo il tech l'immobiliare i media e il financial financial altre cose che si possono fare va bene farma la farma questa devo ancora studiare la bene però in sintesi qua ci suggerisce polli che producono uova e vendiamo uova poi polli che processiamo li congeliamo e vendiamo i polli congelati e poi polli ok due volte ok utilizziamo questo metodo e abbiamo una produzione di polli ora io non so se i polli possano essere venduti in questo discount lo scopriamo subito andando a vedere se infatti sotto indi possiamo vendere jeans polli congelati e qua ci viene prodotto in automatico il la catena di produzione e polli e uova e quindi vendiamo anche uova e allarghiamo il business intanto il fatturato è bassino perché il profitto scusate è di 87 l'ultimo anno no adesso ok dai sta iniziando a vendere abbastanza bene per quanto i nostri i nostri jeans non abbiano brand la qualità media in città e di 27 quindi stiamo facendo dei jeans di qualità più alta rispetto alla media della città siamo più bassi come prezzo ma il brand in città vogliono 13 abbiamo avuto una gran caduta qua mi sa o è partito un altro anno non lo so quasi può andare a fare il training per spendendo 18 mila in questo caso 17 mila facciamo per migliorare quelli che sono i dipendenti che ci lavorano qui abbiamo il traffico in quest'area l'indice di traffico in quest'area 18 possiamo andare a vedere anche altre cose altre vedete tanti edifici sono del governo quindi non li potete comprare non so dire se però il governo li possa riposta vendere comunque abbiamo un nostro negozietto abbiamo una attività commerciale che al momento non sta andando molto lontano soprattutto nel mercato azionario non non aveva anche anche vediamo un attimo che ci fa vedere solo quelle che possediamo no oddio adesso valgono di più però le azioni gameplay indie potresti vendere queste si valgono di più hai cominciato ad andare quindi io vendo tutta la mia quota e ho un milione e due e quindi ho guadagnato a livello personale delle cose io a livello personale possiedo il 50 per cento della mia azienda quindi è una figata il fatto che venga tenuto a conto dell'azienda ma anche di noi che siamo i proprietari ovviamente non abbiamo ancora il valore della nostra azienda è di 240 milioni 242 per il 50 per cento quindi ipoteticamente la nostra azienda vale 50 milioni e 500 scusate 500 milioni al momento della nostra azienda sono in vendita il 20 per cento delle azioni non so se possiamo ricomprarcele abbiamo 469 milioni in cassa io mi compro il 5 per cento alla volta me lo compro tutte ok vediamo se posso ancora sì mi compro anche la restante perfetto noi come azienda ora abbiamo l'ottantadue il 62 per cento dell'azienda abbiamo ma ok pensavo di più perché perché la nostra azienda appartiene in corte liberi di mercato non ce ne sono abbiamo il 62 per cento noi e tutto questi percentuali frammentate sono di altre persone a cui vi dà fastidio che le possiedano vado da quello che possiede la una delle quote più alte che sono qui 250 e gli dico ti offro per le tue quote 11 milioni lui dice no me ne dai 17 in questo caso no però le compro io gli ho comprato il 2 per cento che aveva e l'ho portato via e quindi mi sono preso altri 2 per cento qualcosa di azienda e quindi o il mio il 2 per cento vabbè abbiamo fatto tanto sul mercato azionario fatto un tanto una parola grossa però insomma vi ho fatto vedere soprattutto quello per farvi vedere la profondità diciamo che il gioco può essere destinato costa 20 euro può essere destinato a quelli che hanno provato rise of nations che è un rise of nation scusatemi ma iso v industry rise of nation è un bellissimo gioco come uno strategico rise of industry l'ho approvato l'ho trovato molto figo ma magari un po semplice un po limitato o magari lo ha padroneggiato dopo poche ore questo ha veramente di tutto di più quindi 19 99 sul sito capitalism lab che è successore di capitalism 2 dell'inizio anni 2000 e allora se avete la voglia di mettervi lì a spulciare tutti i menu tutti i dati vi piacciono le statistiche il mercato azionario le vendite l'imprenditoria tutto quello che è il vostro brand da creare così e appunto non avete problemi con l'inglese volete comunque cimentarvi comunque perché il gioco vi piace vi impegnerete compratelo tutto il resto no non mi sento di consigliarlo a metà per qualcuno o meno dovete avere questi prerequisiti io ringrazio lo sviluppatore per la possibilità di aver provato il loro titolo io vi ringrazio e alla prossima